Non solo in campo maschile con i vari canna, d'apice e furno e con la truppa dei giovani pronta ad esordire nella nazionale maggiore. La campania è protagonista anche in campo femminile quando si parla di pallovale. Ad agosto andranno in scena i mondiali di rugby e l'Italia parteciperà per la prima volta. Tra le convocate del commissario tecnico Andrea Di Giandomenico ci sono due sannite, entrambe scuola rugby Benevento. Si tratta di Maria Grazia Cioffi e Lucia Cammarano, atlete che ormai sono diventate fondamentali nel progetto tecnico dell'allenatore azzurro. La squadra è Gerard Una Tirrenia dove preparerà l'importante competizione. Nel girone di qualificazione Cioffi e compagne saranno impegnate contro gli Stati Uniti, con le padrone di casa dell'Inghilterra e poi contro la Spagna che a sorpresa ha eliminato addirittura la Scozia. Il mondiale è l'appuntamento inseguito e sognato per anni soprattutto da Maria Grazia Cioffi che dopo la competizione iridata potrebbe dare l'addio ai colori azzurri e forse anche al rugby giocato dopo dieci anni di carriera piena zeppa di soddisfazioni.